svevo il fumo ma allora io non sapevo se amavo odiavo la sigaretta il suo sapore e lo stato in cui la nicotina mi metteva quando seppi di odiare tutto ciò fu peggio e lo seppi a vent'anni circa allora soffersi per qualche settimana di un violento male di gola accompagnato da febbre il dottore prescrisse il letto e l'assoluta astensione dal fumo ricordo questa parola assoluta mi ferì e la febbre la colorì un vuoto grande e niente per resistere all'enorme pressione che subito si produce intorno ad un vuoto quando il dottore mi lasciò mio padre mia madre era morta da molti anni con tanto di sigaro in bocca restò ancora per qualche tempo a farmi compagnia andandosene dopo aver passato dolcemente la sua mano sulla mia fronte scottante mi disse non fumare beh mi cosse un'inquietudine enorme pensai già che mi fa male non fumerò mai più ma prima voglio farlo per l'ultima volta accesi una sigaretta e mi sentì subito liberato dall'inquietudine adonta che la febbre forse aumentasse e che ad ogni tirata sentissi alle tonsille un bruciore come se fossero state toccate da un tizzone ardente fini tutta la sigaretta con l'accuratezza con cui si compie un tutto e sempre soffrendo orribilmente ne fumai molte altre durante la malattia mio padre andava e veniva col suo sigaro in bocca dicendomi bravo ancora qualche giorno di astensione dal fumo e sei guarito bastava questa frase per farmi desiderare che gli se ne andasse presto presto per permettermi di correre alla mia sigaretta fingevo anche di dormire per indurlo ad allontanarsi prima quella malattia mi procurò il secondo dei miei disturbi lo sforzo di liberarmi dal primo le mie giornate finirono con l'essere piena di sigarette e di propositi di non fumare più e per dire subito tutto di tempo in tempo sono ancora tali la ridda delle ultime sigarette formatasi a vent'anni si muove tuttavia meno violento è il proposito e la mia debolezza trova nel mio vecchio animo maggiore indulgenza da vecchi si sorride della vita e di ogni suo contenuto posso anzi dire che da qualche tempo io fumo molte sigarette che non sono le ultime sul frontespizio di un vocabolario trovo questa mia registrazione fatta con bella scrittura e qualche ornato oggi 2 febbraio 1886 passo dagli studi di legge a quelli di chimica ultima sigaretta era l'ultima sigaretta molto importante ricordo tutte le speranze che l'accompagnarono mi ero arrabbiato col diritto canonico che mi pareva tanto lontano dalla vita e correvo alla scienza che è la vita stessa benché ridotta in un matraccio quell'ultima sigaretta significava proprio il desiderio di attività anche manuale e di sereno pensiero sobrio e sodo per sfuggire alla catena delle combinazioni del carbonio cui non credevo ritornai alla legge purtroppo fu un errore e fu anch'esso registrato da un'ultima sigaretta di cui trovo la data registrata su di un libro fu importante anche questa e mi rassegnavo di rompere a quelle complicazioni del mio del tuo del suo coi migliori propositi sciogliendo finalmente le catene del carbonio mi era dimostrato poco idoneo alla chimica anche per la mia deficienza di abilità manuale come avrei potuto averla quando continuavo a fumare come un turco adesso che sono qui per analizzarmi sono colto da un dubbio che io forse abbia amato tanto la sigaretta per poter riversare su di essa la colpa della mia incapacità chissà se cessando di fumare io sarei diventato l'uomo ideale e forte che mi aspettavo forse fu tale dubbio che mi legò al mio vizio perché è un modo comodo di vivere quello di credersi grande di una grandezza latente io avanzo tale ipotesi per spiegare la mia debolezza giovanile ma senza una decisa convinzione adesso che sono vecchio e che nessuno esige qualche cosa da me passo tuttavia da sigaretta a proposito e da proposito a sigaretta che cosa significano oggi quei propositi come quell'igienista vecchio descritto dal goldoni vorrei morire sano dopo essere vissuto malato tutta la vita una volta allorché da studente cambiai di alloggio dovetti far tapezzare a mie spese le pareti della stanza perché le avevo coperte di date probabilmente lasciai quella stanza proprio perché essa era divenuta il cimitero dei miei buoni propositi e non credevo più possibile di formarne in quel luogo degli altri penso che la sigaretta abbia un gusto più intenso quando è l'ultima anche le altre hanno un loro gusto speciale ma meno intenso l'ultima acquista il suo sapore dal sentimento della vittoria su se stesso e la speranza di un prossimo futuro di forza e di salute le altre hanno la loro importanza perché accendendole si protesta la propria libertà e il futuro di forza e di salute permane ma va un po più lontano le date sulle pareti della mia stanza erano impresse coi colori più vari ed anche ad olio il proponimento rifatto con la fede più ingenua trovava adeguata espressione nella forza del colore che doveva far impallidire quello dedicato al proponimento anteriore certe date erano da me preferite per la concordanza delle cifre del secolo passato ricordo una data che mi parve dovesse sigillare per sempre la bara in cui volevo mettere il mio vizio nono giorno del nono mese del 1899 significativa non è vero il secolo nuovo ma portò delle date ben altrimenti musicali primo giorno del primo mese del 1901 ancora mi pare che se quella data potesse ripetersi io saprei iniziare una nuova vita ma nel calendario non mancano le date e con un po di immaginazione ognuna di esse potrebbe adattarsi ad un buon proponimento ricordo perché mi parve contenesse un imperativo supremamente categorico la seguente terzo giorno del sesto mese del 1912 ore 24 suona come se ogni cifra raddoppiasse la posta l'anno 1913 mi diede un momento d'esitazione mancava il tredicesimo mese per accordarlo con l'anno ma non si creda che occorrano tanti accordi in una data per dare rilievo ad un'ultima sigaretta molte date che trovo notate sui libri o quadri preferiti spiccano per la loro deformità per esempio il terzo giorno del secondo mese del 1905 ore 6 ha un suo ritmo quando ci si pensa perché ogni singola cifra nega la precedente molti avvenimenti anzi tutti dalla morte di più nono alla nascita di mio figlio mi parvero degni di essere festeggiati dal solito ferreo proposito tutti in famiglia si stupiscono della mia memoria per gli universali lieti e tristi nostri e mi credono tanto buono per diminuire l'apparenza balorda tentai di dare un contenuto filosofico alla malattia dell'ultima sigaretta si dice con bellissimo atteggiamento mai più ma dove va l'atteggiamento se si tiene la promessa l'atteggiamento non è possibile di averlo che quando si deve rinnovare il proposito e poi il tempo per me non è quella cosa impensabile che non si arresta mai da me solo da me ritorna a